Tutta un'altra storia in Coppa Italia di Serie C rispetto alla partita di campionato vinto domenica scorsa al Viviani dalla Regina. Stesse avversaria, ma al Granillo si impone con il punteggio di 3 a 2 il Potenza che accede così agli ottavi di finale. Affronterà la vincente tra Catania e Sicura Leonzo che si sfideranno il 20 novembre al Massimino. Partita ricca di emozioni, quella tra i calabresi, primi in classifica nel girone C di terza serie, e i lucani, quarti in graduatoria a meno 7 dalla vetta. Non c'è la pressione del campionato, lo spettacolo di conseguenza ne beneficia meglio la partenza degli ospiti. Grande azione di Murano che parte da centrocampo, lascia sul posto in velocità tra i avversari, incrocia con il Mancino, ma trova sulla sua strada la gran risposta di Farroni. La replica della Regina arriva prima della mezz'ora, sventola dalla distanza, ride Francesco, palla, lato non di molto, ci prova da fuori aria anche arcidiacolo dalla parte opposta. Il risultato è lo stesso, cambia decisamente la sostanza invece a 6 minuti dello scadere quando Giuliano indovina il rasoterà che sorprende Farroni e porta in vantaggio il potenza. Ospiti vicinissimi al raddoppio in pieno recupero con una perla dello specialista Emerson sul calcio piazzato che colpisce la traversa. La sfera poi non varca secondo arbitro e assistenti, la linea bianca restano però moltissimi dubbi. 1-0 per gli uomini di Raffaele a metà gara. La ripresa si apre con una sassata mancina di Bresciani che termina di poco a lato, non perdona il potenza dalla parte opposta. Arcidiacono servito in verticale, batte Farroni e fa 2-0. Inutili le proteste per una posizione irregolare da parte dei calabresi. Partita finita? Per niente proprio, bastano 4 minuti infatti alla regina per riaprirla. Ci pensa Dumbià a dimezzare lo svantaggio, sfruttando una disattenzione difensiva a ospite. La partita è intensa, fioccano le emozioni da una parte e dall'altra. Poi a poco più di un quarto d'ora dal termine e De Francesco a colpire dal limite dell'area di rigore. 2-2, rimonta completata. L'equilibrio in ogni caso dura pochissimo perché sul cross di Viteriti dalla destra, Vuletic usa bene la testa e riporta avanti i suoi. 3-2 potenza, risultato che resta intatto nonostante gli ultimi tentativi dei padroni di casa, sino al triplice fischio. I Lucani accedono così agli ottavi di finale. Ora proveranno a riscattarsi anche in campionato. lunedì nel posticipo della quattordicesima giornata saranno di scena in trasferta contro l'Avellino, fischio d'inizio al Partenio Lombardi previsto alle ore 20.45.